Benvenuti, cari follower. Un serio allarme di temporali molto forti si abbatterà sull'Italia domani, martedì 27 agosto 2024, con il rischio di gravi catastrofi naturali. Ma prima di entrare nei dettagli, spero che condividiate questo avviso con quante più persone possibile e che ci sostegniate, anche premendo il pulsante, mi piace per questo video, per motivarci a continuare e fornirvi il miglior ringraziamento. Quindi, come vedete sulla mappa davanti a voi, le zone all'interno del cerchio rosso saranno esposte a temporali molto forti domani sera, martedì. Questi temporali saranno accompagnati da grandine, con rischio di alluvioni improvvise, forti venti e maltempo. Il modello europeo ha lanciato un allarme rosso scuro per il centro e il sud Italia per il pericolo di questi temporali molto forti, che potrebbero causare grossi problemi ai cittadini. Domani sera, martedì, quindi, allarme rosso scuro, per tutti, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Allerta Gialla, temporali in varie zone di Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Sardegna, Orientale, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia. Invitiamo infine tutti alla massima prudenza.